50 opere grafiche e pittoriche realizzate da 11 artisti per avvicinarsi a chi vede il nostro mondo ma con occhi diversi. E la mostra Persone, inaugurata il 2 dicembre a Palazzo Lascaris in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità. Tema centrale della collettiva, la rappresentazione della figura umana in rapporto con il mondo che la circonda. Opere coloratissime o rigorosamente in bianco e nero, raccontano lo spettatore, una quotidianità fatta di sogni, immaginazione e di un vissuto lontano dagli schemi. Sono artisti che difficilmente si confrontano col sistema culturale contemporaneo perché magari non lo conoscono. Alcuni di loro non sono nemmeno consapevoli di essere degli artisti, di avere un valore artistico. Si esprimono perché è necessità, bisogno di espressione e anche piacere di comunicare, quello che vedono, di raccontare. In questa mostra infatti c'è un racconto dell'umanità che li circonda. Attraverso l'esposizione, il Consiglio regionale del Piemonte ha voluto valorizzare i patrimoni artistici provenienti dall'archivio della città di Torino e dagli atelier dei centri di urni delle comunità piemontesi per persone con disabilità. Il Consiglio regionale ha voluto promuovere una mostra così, particolare con persone affette di disabilità, per cercare di avvicinare le persone normodottate a quelle disabili. Noi abbiamo necessità di cercare di dare conforto e manforte, soprattutto nell'ambito sanitario, alle persone affette da disabilità, perché dobbiamo rendere normale la loro vita. Una mostra che permette allo spettatore di immergersi in una realtà parallela, immaginata da chi la quotidianità a volte fa fatica a viverla. È una mostra che aiuta a guardare con occhi diversi. Spesso si dice che la disabilità è negli occhi di chi guarda. Forse guardare queste opere ci farà incontrare delle persone, gli artisti che l'hanno realizzato e con il loro portato umano, sociale, per cui è importante venire a vederla e soprattutto vedere come il Consiglio regionale si apre ai tanti visitatori partendo da un evento culturale, ancor prima che un evento sociale. La mostra è a cura delle associazioni artenne e forme in bilico in collaborazione con Città di Torino e Opera Barolo in partenariato con la consulta per le persone con difficoltà. Rimarrà aperta a Palazzo Lascaris fino al 10 gennaio e sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.